Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando di cronaca, ancora sangue sulle strade della nostra regione perché una 31enne ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 14 e che ha coinvolto un mezzo pesante ed un'autovettura. Una donna è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Mazzini di Termo. Vediamo il servizio. È di una vittima, una ragazza di 31 anni e un ferito gravissimo. Il tragico bilancio di un incidente stradale è accaduto questa mattina poco prima delle 11 sulla careggiata nord dell'autostrada 14 all'altezza del chilometro 323 tra i caselli di Val Vibrata e Giulianova e che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura dove si trovava la vittima. Secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra che la gomma di un camion improvvisamente scoppiata sia andata a travolgere l'auto. Imediati soccorsi arrivati sia dall'Abruzzo che dalle vicine Marche sul posto sono confluiti in massa i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Autostradale, oltre a personale del settimo tronco di Pescara della società Autostrade. Sul luogo del tragico evento si circola ad una sola corsia con code in direzione del capoluogo adriatico che hanno raggiunto e superato anche 5 chilometri a causa del traffico intenso dei vacanzieri. Sono gli uomini della Polizia Stradale ora a condurre le indagini per chiarire le cause dell'accaduto. La persona ferita, una donna, è stata trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono critiche. I soccorsi sanitari sono stati coordinati dalla sala operativa del 118 del capoluogo Aprutino. Parliamo ora di politica. Ci spostiamo a Pescara perché l'assessore regionale Donato Di Matteo ribadisce il secco no alla sostituzione dell'assessore del comune Giuliano Diodati. Vediamo. Assessore Di Matteo, un ferragosto di lavoro. Al comune di Pescara c'è questo rimpasto che tante polemiche e tanti problemi sta creando. L'uscita, la probabile uscita dell'assessore Giuliano Diodati ha visto da parte vostra da una componente del PD la netta contrarietà. Ma io dico, intanto è uno dei tanti rimpasti che in tre anni si sono fatti a Pescara. La gran parte di questi rimpasti non si capiscono dove conducono, qual è la strategia, qual è la qualità e il merito per chi va a sostituire persone che già ci sono. E anche nella sostituzione non si capisce per quale motivo vengono tolti alcuni rispetto ad altri. La verità è che i cittadini di Pescara non capiscono quello che sta succedendo. Non dobbiamo dare un'immagine di un continuo giocare sulle poltroncine, i poteri. Noi dobbiamo dare una prospettiva di grande crescita per questa città. Io credo che Giuliano Diodati sia un riferimento di questa città ed è una persona che sicuramente dovrà rimanere dentro la Giunta e sarà capace, così come ha fatto nei tre anni, di rappresentare una parte della città, quella del centro, delle parti più centrali della città che guardano in lui come un professionista di qualità. Assessore, se però dovesse andare via Diodati, dovesse uscire dalla Giunta, voi confermate di essere pronti a lasciare le varie maggioranze dalla Regione fino al Comune di Pescara? Io dico sempre, in ragione delle gravità delle malattie bisogna fare le terapie. Se una malattia è grave bisogna intervenire con terapie pesanti. L'uscita di Diodati è una cosa gravissima, una malattia pesantissima a cui si dovrà rispondere con un atteggiamento duro e impegnato. Restiamo a Pescara, dove il consigliere comunale della lista, Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli, continua a seguire da vicino la vicenda degli sfollati di via Lago di Borciano. Vediamo i particolari nel servizio. Consigliere Pignoli, lei ha passato il giorno di ferragosto presso un hotel di Pescara con gli sfollati di via Lago di Borciano, un atto tutt'altro che simbolico. Sì, in questi giorni di feste dove si pensa di stare insieme e propicare le proprie persone ho ritenuto necessario, ho visto anche la mia azione politica che sembra a favore delle persone bisognose, passare un momento a salutare gli evacuati di via Lago di Borciano che non è che bisogna stare loro attenti soltanto in momenti difficili alla loro vita ma secondo me anche in questi momenti storici dove c'è festa, c'è qualcosa, loro invece non stavano festeggiando assolutamente nulla. Voglio ringraziare pubblicamente l'Hotel Holiday che ha preparato un ottimo menù a base di pesce ma questo certo non può essere di consolazione per chi ovviamente la casa non ce l'ha più da un mese. Queste persone che sono fuori di casa come diceva lei da diverso tempo, ha parlato con alcuni di questi inquilini, qual è la situazione, qual è anche l'umore di queste persone? Ma con l'incontro che abbiamo avuto per la questione dell'aggiunta al Comune di Pescara con il sindaco è uscito anche il problema di via Lago di Borciano, lui ha detto che ha già avuto un incontro bilaterale con Lance per cercare eventualmente di acquisire appartamenti nuovi e darli a queste persone. Si stanno aggiustando velocemente anche altri appartamenti, case popolari. Spero che tra settembre e primi d'ottobre sia tutto sistemato e che per loro trascorrere questo tempo in albergo sia fra qualche mese soltanto un vecchio ricordo. Cambiamo pagina perché proseguono gli interventi per bloccare i focolai nelle province di Teramo, Chieti, Pescara e L'Aquila. Parliamo ovviamente di incendi. Maggiori criticità si sono registrate a schiavi d'Abruzzo in provincia di Chieti con l'evacuazione di alcune famiglie. Vediamo i particolari nel servizio di Noemi Fratelli. Continua l'emergenza incendi su ampie zone del territorio regionale. Nessuna delle quattro province sembra in questi giorni essere immune dal rischio di roghi che si susseguono e rendono di conseguenza ancora più difficile il compito dei vigili del fuoco che vedono aprirsi nuovi fronti col passare dei giorni. In provincia di Teramo prosegue l'incendio a chi ha colpito la frazione di Magnanella. Nelle ultime ore ha raggiunto un'ampiezza massima di 100 metri interessando la parte più interna di un ripido canalone di conifere in una zona non accessibile con i mezzi a terra. Le altre zone colpite sono quelle di Cugnoli e Molviano a Campli, di Giulianova, di Tortoreto e di Piano della Lenta e Contrada a mezzanotte a Teramo. Durante la giornata nel Teramano si sono susseguiti costantemente i diversi interventi a terra e via aerea dei mezzi di soccorso di vigili del fuoco e protezione civile. Le operazioni dall'alto con elicotteri a Canadair sono eseguite da un DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, del comando dei vigili del fuoco di Teramo. Sul campo continuano ad operare senza sosta una squadra di nove uomini del comando dei vigili del fuoco di Teramo, un autobotte, un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio oltre a diverse squadre della protezione civile. Durante la notte è stato comunque garantito un costante presidio di controllo con squadre antincendio. Nel corso della mattinata di ieri hanno lavorato sul posto anche un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Pescara, sostituito nel pomeriggio da un Canadair, che è stato successivamente dirottato a Schiavi d'Abruzzo dove un vasto incendio sta minacciando le abitazioni. Situazione grave anche nel Chietino, con Focolai nelle zone tra Carunchio e Palmoli, mentre proprio a Schiavi d'Abruzzo un ruogo di origine dolosa ha raggiunto i 7 chilometri di estensione. Il sindaco Luciano Pilluso si è visto costretto a predisporre l'evacuazione di alcune famiglie, collaborando con volontari di protezione civile e vigili del fuoco e carabinieri. È stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza per soccorrere un anziano che ha accusato dei problemi alle vie respiratorie a causa dell'aria resa satura dalla combustione. Nell'Aquilano roghi anche arroccapie e canistro, forse di origine dolosa. Le fiamme si sono estese fino alle abitazioni, rendendo necessarie le manovre di chiusura della strada statale 690. Le uniche buone notizie invece arrivano dalla provincia di Pescara, dove è stato domato l'incendio che ieri pomeriggio ha interessato all'anno. Andiamo ancora avanti con il nostro giornale, perché il sindaco di Rapino denuncia la Telecom per interruzione di pubblico servizio. Da quasi un mese il municipio residenti del centro storico sono senza collegamenti telefonici, spiega il primo cittadino, Rocco Micucci. Nonostante le quotidiane richieste di intervento, il problema persiste ed è follia che l'ente pubblico più importante del territorio debba rivolgersi ai numeri verdi, perdendo intere giornate nell'attesa di qualcuno che si degni di rispondere. Sembra di rivivere l'incubo di questo inverno quando l'Enel ci ha lasciati senza fornitura di energia elettrica per giorni e giorni, senza fornire né risposte né assistenza per problemi risolvibili in 15 minuti. I disservizi sono enormi, perché, sottolinea il primo cittadino, il comune è il punto di riferimento dei cittadini per tutti i servizi ed essere isolati in un momento in cui il Paese si riempie anche di emigranti e di turisti fa in modo che i disagi siano ancora più grandi. Ma il danno più grave, ha proseguito il Sindaco, lo subiscono in questo momento gli anziani, perché essendo i meni avvezzi alle tecnologie, sono praticamente isolati. Se hanno bisogno di assistenza medica o di qualunque soccorso, sono impossibilitati a chiederlo. Questo aggetta la popolazione in uno stato di insicurezza sociale gravissimo. Ritengo che l'indifferenza di chi gestisce servizi primari, soprattutto nelle zone interne, dove comunicazioni e collegamenti, anche i viari, sono sempre più difficili, stia arrecando un danno che possa avere risvolti penali. Perciò, fa sapere Micucci, ho presentato un esposto denuncia al comando dei carabinieri locali per verificare se, a seguito del comportamento di questa azienda, che ha praticamente il monopolio delle comunicazioni telefoniche, ci siano fatti penalmente perseguibili, perché l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità è un reato previsto dall'articolo 331 del Codice Penale. Chiedo pertanto anche che vengano accertate tutte le responsabilità, in particolare dei vertici strapagati, di queste aziende, per questo disagio insostenibile e che i miei concittadini vengano risarciti. Mi aspetto che le forze dell'ordine facciano il loro dovere fino in fondo. Nel frattempo, ha concluso il Sindaco, mi sono rivolto anche al Corecom per chiedere la tutela dei miei cittadini. E andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, Abruzzo agli ultimi posti nella classifica nazionale per la capacità di avanzamento della spesa pubblica del programma di sviluppo rurale 2014-2020. La denuncia arriva dal presidente della Commissione di Vigilanza regionale, Mauro Fevo. Vediamo il servizio. Ancora pessimi dati. Per la terza volta consecutiva il report trimestrale della Rete Rurale Nazionale, MIPAF, Ministero delle Politiche Agricole, colloca l'Abruzzo tra le ultime regioni con uno sconsolante 5,62% in termini di capacità di avanzamento della spesa pubblica del programma di sviluppo rurale 2014-2020. I fondi europei destinate all'agricoltura adesso rischiano concretamente di tornare indietro poiché non impiegati e spesi dalla regione Abruzzo. Sono dati che certificano il fallimento del governo D'Alfonso e del suo delegato alle politiche agricole. Questo è il commento del presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febo che sottolinea come sono disponibili online le performance di spesa delle regioni d'Italia sui rispettivi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 aggiornate al 30 giugno 2017. E dopo aver letto i dati, gli andamenti dei bandi e le statistiche riferite alla nostra regione c'è veramente da preoccuparsi visto che siamo ancora lontani nello scongiurare il disimpegno e dato che l'Abruzzo è posizionato al quintultimo posto. Infatti dopo tre anni e mezzo di programmazione del PSR questo esecutivo regionale è stato capace di spendere solo il 5,62% dei 432 milioni di euro circa messi a disposizione dall'Europa nel settore primario. Un altro dato significativo continua Febo è il rischio disimpegno che supera l'11% vedendo l'Abruzzo come una delle poche regioni d'Italia con una percentuale così alta. Quindi continua la discesa in termini percentuali della regione allontanandoci sempre più dagli obiettivi annuali che la Commissione Europea indica. A riprova dei miei continui allarmi e preoccupazioni continua Febo vi sono anche i richiami ufficiali dei tecnici di Bruxelles come si evince dal verbale del Comitato di Sorveglianza del PSR Abruzzo riunitosi a Pescara lo scorso 4 luglio dove vengono evidenziati le criticità e gli enormi ritardi presenti nell'attuare e spendere i fondi del programma di sviluppo rurale della regione. Così come siamo ancora in attesa di vedere conclude dopo ben un anno la graduatoria del bando pacchetto giovani anche questa una storia senza fine. Praticamente passerà anche il 2017 il mondo agricolo non riceverà un solo euro dal programma di sviluppo rurale. Ed ora apriamo l'ampia pagina degli eventi dal 24 al 26 agosto in programma il Campli Music Festival tre giorni di musica diffusa sul territorio con concerti e interpreti di primo piano tutti ad ingresso libero concerto conclusivo di James Senese e Napoli Centrale la band che ha collaborato con Pino Daniele. Vediamo. Dal 24 al 26 agosto Campli riparte anche con la grande musica con il festival Campli Music Festival. Sì abbiamo voluto creare un contenitore musicale ma anche culturale con dei concerti che si faranno il 24 e il 26 a Campli e il 25 a San Norovo con musica diffusa. Quindi tramite la musica vogliamo rilanciare l'economia locale e cercare di valorizzare non solo artisti di un certo livello come James Senese in Napoli Centrale che conosciamo tutti ha collaborato con Pino Daniele a riguardo ci sarà anche un omaggio al grande artista che è venuto a mancare un po' di tempo fa ma soprattutto vogliamo valorizzare anche i talenti del nostro territorio quindi un'iniziativa molto importante voglio ringraziare il BIM che ha contribuito a questa manifestazione e l'associazione Samarcanda che provvede all'organizzazione dell'evento. Presidente dell'associazione Samarcanda Gabriella Sperandio cosa prevede il programma del Cample Music Festival? Innanzitutto il filo conduttore di questi tre giorni di musica appunto è Napoli Napoli che si sposta e arriva fino ai confini del Regno Borbonico insomma l'ultimo l'ultima parliamo di Civitella quindi siamo ai confini se è vero che si va a nord per trovare fortuna è anche vero che si viene a sud per trovare l'anima in questo contesto diciamo che siamo molto fortunati perché artisti del calibro di James Enese che ci sarà il 26 agosto l'anima ce la portano ce la porta a domicilio e parliamo ancora di eventi passiamo ora all'arte a parlare dello spoltore ensemble con il comune di spoltore che invita a partecipare tutti alla 34esima edizione della manifestazione in programma il 18 ed il 19 agosto gli artisti di spoltori Leana Di Damaso Luigi Vitali Francesco De Luca e Antonio Matarazzo saranno i protagonisti di Viaggio nell'arte con esposizioni personali videoproiezioni installazioni teatro concerti e cabaret partendo da Largo della Porta passando poi per il centro storico e per la Casa della Cultura e la Biblioteca Comunale ad aprire la Galleria d'Arte all'aperto il 18 agosto alle 19 in piazza di Marzio Largo della Porta saranno le coinvolgenti videoproiezioni delle opere dei quattro artisti sulle pareti della Chiesa un'importante esperienza plurisensoriale che coinvolge tutta la cittadinanza per portare avanti la promozione del territorio spoltorese e andiamo avanti ancora con gli eventi dal 18 al 20 agosto al teatro cinematografico a San Demetrio Nevestini in provincia dell'Aquila si svolgerà lo spettacolo Il colore del pane di Giancarlo Gentilucci due storie di ragazzi che si intrecciano con la drammaticità dei nostri anni ma che lasciano un forte messaggio di speranza un linguaggio semplice per avvicinare il pubblico a tematiche difficili il servizio di Germana Dorazio Il 18, 19 e 20 agosto partirà la seconda edizione del colore del pane uno spettacolo che parla di ragazzi di seconda generazione sia di nascita che di società in particolare saranno portate in scena due storie quella di una bambina nata poco prima del terremoto dell'Aquila e poi cresciuta in una città nuova e sdradicata dalle sue tradizioni familiari la stessa terra di nessuno in cui vive un altro ragazzo un giovane albanese figlio di emigrati il quale non ha radici ma sopravvive nella nuova città e nel nuovo tempo con l'autore abbiamo pensato di dedicare questo spettacolo all'opportunità che può avere lo spettatore di comprendere che questi giovani oltre a vivere i drammi di una società contemporanea che non è delle migliori noi vogliamo invece dimostrare che è una generazione che all'interno ha tutta una serie di conoscenze di sapienze per cui alcuni di questi giovani hanno già le idee chiare coltivano le proprie passioni hanno sicuramente la possibilità di costruire un nuovo futuro diverso da quello che in realtà la realtà gli offre noi abbiamo cercato di dare un taglio ironico per quanto possibile a tutta la storia e anche l'ambientazione di fatto è un pochino paradossale adesso non sveliamo molto però è chiaramente giocata sul limite tra l'onirico e il fiabesco cioè non è una storia raccontata come dire con ritmi da telegiornale tutt'altro e si spera quindi che sia anche una cosa gradevole fruibile in maniera in qualche modo leggera abbiamo cercato di portare un tema che certo leggero di per sé non è su un tipo di linguaggio su un tipo di frizione da parte del pubblico che potesse essere in qualche modo molto più agile molto più snello in maniera tale anche da in qualche modo veicolare dei messaggi che tipicamente trovano un po' di resistenza da parte di un certo tipo di pubblico riuscire a veicolarli tramite una forma un po' particolare che speriamo piaccia insomma il colore del pane giovani visionari in viaggio di Giancarlo Gentilucci si svolgerà nell'ambito del teatro cinematografico a Lago di Sinizio a San Demetrio Nevestini e siamo all'ampia pagina dello sport iniziamo con il Pescara e parliamo ovviamente di mercato perché nell'ambito dell'operazione Biraghi a Pescara arriva l'esterno d'attacco James Bay dalla Fiorentina intanto Atalanta e Udinese corteggiano Francesco Zampano ma la società Bianca Azzurra è decisa a non svendere il terzino vediamo il servizio di Jacopo Forcella ceduto Biraghi alla Fiorentina per il Pescara ancora a tempo di uscite anche con la consapevolezza però di dover rifinire la rosa con cui affrontare il campionato che parte domenica 27 le attenzioni della massima serie sono soprattutto per Francesco Zampano l'esterno è appetito da Udinese Atalanta ma con i bergamaschi dopo che l'affare Pessina sembra sfumato i rapporti potrebbero raffreddarsi il Delfino dalla cessione di Zampano vorrebbe monetizzare cedendolo a titolo definitivo le pretendenti invece puntano come spesso accade in questo mercato a prestiti con riscatti che diventano possibilità o obblighi solo a distanza di 12 pesi la società Bianca Azzurra chiede almeno 2 milioni più relativi bonus per lasciar partire Zampano anche nell'ottica di non svendere un calciatore che innanzitutto piace a Zeman e poi rappresenterebbe un valore aggiunto in un organico di serie B è evidente che il Pescara non può seguire la stessa linea anche perché avrebbe già trovato il naturale sostituto si tratta di Petar Golubovic 23 anni di proprietà della Roma ma con esperienze in prestito a Novara Pistoia e Pisa in difesa la cremonese sembra aver superato tutti nella corsa alla centrale della ternana Biagio Meccariello che era entrato anche nei radar del Brescia la vera novità però è l'arrivo in biancazzurro di Jaime Baez dalla Fiorentina proprio nell'ambito dell'operazione che ha portato Biraghi in viola l'esterno offensivo dopo l'esperienza all'ospezia che avrebbe voluto riaverlo ancora sta per sbarcare in riva l'Adriatico per mettersi a disposizione proprio di Zeeman che potrebbe esaltarne le caratteristiche 22 anni per Baez che nasce come ala sinistra ma può giocare anche spostato sul fronte opposto rimangono sempre in piedi i discorsi legati alle altre uscite tipo quella di Benalì che nel mirino della Sampdoria da tempo anche se il continuo temporeggiare dei blucerchiati ha lasciato spazio all'inserimento del Bologna che dopo essersi assicurata Palasio vorrebbe anche il libico per completare il pacchetto avanzato per cercare di abbassare la quota che esci Felsine potrebbero mettere sul piatto della bilancia Filippo Falco di proprietà proprio Rosso Blu è rientrato in Emilia dopo la stagione esaltante con la maglia del Benevento intanto questo pomeriggio per il Delfino l'ultima amichevole prima dello start del campionato al dei Marsi di Avezzano la sfida ha un grande ex come Federico Giampaolo che non più tardi di 24 ore fa si è seduto ufficialmente sulla panchina marsicana sarà un test per capire a che punto è la squadra in attesa delle operazioni last minute per completare un Pescara che anche i bookmakers già danno insieme al Palermo in prima fila nella corsa la Serie A e siamo alla pagina della Serie C perché proprio in Serie C il Teramo ha aggregato alla truppa Biancorossa la punta Gabriele Tittarelli e Saccia Martinez intanto il tecnico del diavolo Antonino Asta analizza le prime giornate di campionato e i primi avversari della sua formazione ovvero il Mestre ed il Vicenza vediamo due giovani in prova e almeno un paio di colpi ancora da assestare per vedere un Teramo completo nella prima giornata di campionato i due ragazzi su cui da ieri Asta può contare sono Gabriele Tittarelli e Saccia Martinez il primo attaccante Jesino l'anno scorso ha fatto le fortune del Fabriano Cerreto in eccellenza con 17 reti 30 gare di campionato peraltro fu un suo gol al Valle Anzucca di Francavilla a impattare l'iniziale vantaggio giallorosso di Milizia Martinez invece è calcisticamente cresciuto nella scuola di formazione francese di Claire Fontaine ad Asta e alla dirigenza il compito di visionarli e nel caso offrire loro la possibilità di giocare una stagione nella terza serie nazionale Tittarelli sarebbe il vicefoggia mentre il diavolo è ancora alla ricerca di un centrocampista di struttura da affiancare ai già presenti Ilari Amadio De Grazia Paolucci Varas non c'è dubbio è nata è nata la squadra quindi è giusta come analisi la tua e quindi sappiamo che comunque ogni squadra ha i suoi pregi difetti questo non c'è dubbio noi cerchiamo di aumentare possibilmente i nostri pregi in base ai giocatori che ho a disposizione conosco entrambi gli allenatori e conosco entrambi le squadre già quelli che hanno come rose i giocatori e sono due buone squadre sia in un verso nell'altro il mestre oltre l'entusiasmo che avrà si porta dietro degli acquisti come Neto Perera come Sodigna e quindi giocatori di categoria ma in verità guarda non mi preoccupava la squadra forte non forte tutto è la situazione che si è creata delle due partite fuori casa e l'altra riposi perché è questo sappiamo questo girone che girone è ogni partita sarà difficile e quindi non stavo a vedere ecco sinceramente l'unica cosa che avevo un po' è giocare la prima in casa ecco questa è una cosa dove se vi è fatto piacere però non è possibile ancora calcio calcio giovanile perché a far volare alta la maglia rosso-nera del Lanciano Calcio è l'obiettivo del nuovo staff che nasce dalla collaborazione fra Lanciano Accademia Calcio Frentana e Spa Lanciano il tutto per rifondare il settore giovanile del calcio rosso-nero vediamo il servizio Giovani e novità con Lanciano 1920 che rifonda anche il settore giovanile nato dalla collaborazione tra Lanciano Accademia Calcio Frentana e Spa Lanciano le formazioni juniores allievi giovanissimi ed esordienti avranno ognuna due tecnici ma in nessuna formazione lavoreranno le stesse persone questa l'importante novità i componenti dello staff sono Giuseppe D'Aloisio Gianluca Rosato Thomas Di Campli Valerio Valerio e Alberto Iezzi che già facevano parte dell'Accademia Camilo Di Biase proveniente dal Castelfrentano donato Dali Carnasso dalla SPAL Giuseppe Saltarella dal Fossa Cesia della dirigenza del settore giovanile faranno invece parte Leonardo Di Florio in qualità di responsabile tecnico e Andrea Dorsogna investito del ruolo di direttore organizzativo il presidente del club rossonero Fabio De Vincentis per il settore giovanile innanzitutto già poter dire che ci saranno tutte e tre le categorie quindi sia i giovanissimi che gli allievi che la juniores questo mi inorgoglisce tantissimo speriamo adesso di essere altrettanto competitivi anche per quelle che possono essere le squadre che andiamo ad allestire da adesso a pochi giorni ma confido tanto diciamo sia nel nuovo direttore tecnico che conosce bene sia la piazza ma conosce bene pure tutte e due le società che abbiamo inglobato all'interno del Lanciano Calcio e poi ci serve pure un pizzico di fortuna di poter scegliere qualche ragazzo valido che possa avere anche un giusto percorso anche con la prima squadra del Lanciano Calcio perché far indossare la maglia rossonera del Lanciano Calcio ai nostri nuovi e nuove eleve potrebbe essere qualcosa di importante poi se ci scappa qualche cosina ancora più importante e quindi poter dare una carriera veramente importante a qualche lancianese ci sarebbe tanto tanto da divertirsi sia da parte della società ma anche da parte di tutta la città stessa ed è tutto per la seconda edizione del nostro telegiornale siamo in conclusione grazie per averci seguito restate sulla nostra rete perché vi ricordo che alle 21 ci sarà un nuovo appuntamento con Velò per parlare di ciclismo e con Luciano Rabottini e Jacopo Forcella in studio è davvero tutto vi rinnovo l'appuntamento per la terza edizione del nostro telegiornale sempre questa sera alle 23 grazie per averci seguito un buon proseguimento di serata a tutti